Cari colleghi, ben ritrovati. Oggi voglio presentarvi uno strumento che ho ideato e realizzato per integrare il percorso di educazione civica nei vari itinerari didattici. Questo strumento contiene informazioni e attività inerenti alle giornate celebrative da poter condividere nelle nostre classi. Le giornate sono raccolte in ordine cronologico nell'indice per una consultazione veloce e funzionale. La pagina informativa è strutturata in tre settori, l'argomento trattato, la data, il tipo di celebrazione, i dettagli del periodo storico, l'istituzione e lo scopo e le informazioni principali. La pagina operativa offre idee, spunti, attività e consigli per consolidare le informazioni attraverso proposte laboratoriali. Naturalmente ogni attività o proposta può essere semplificata e articolata secondo le proprie esigenze, anche attraverso link e consigli di letture adatti ad ogni ordine di scuola. Come abbiamo visto, recentemente le giornate celebrative hanno assunto un ruolo significativo per informare e sensibilizzare la comunità su questioni importanti a livello globale, oltre a ricordare eventi storici e i successi dell'umanità. Pertanto, questo è uno strumento da tenere sempre a portata di mano per poter trattare con immediatezza le varie tematiche, ma anche per diffondere buone pratiche e per incanalare quelle risorse positive al fine di rafforzare il senso civico personale altrui. Il file digitale può essere stampato in ogni formato, a colori o in bianco e nero. Inoltre, insieme allo strumento, verrà dato in omaggio il calendario scolastico 2021-2022, con tutte le giornate celebrative trattate e le festività. Ringrazio per l'attenzione e buon anno scolastico a tutti!